Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video nel quale vi invito a fare delle domande per un fact time perché alla fine, come avete suggerito voi, ho deciso di fare un fact time per ogni mese e quindi dato che oggi che sto registrando è l'1 giugno, però probabilmente questo video uscirà il 2 vi invito a fare delle domande, risponderò ad alcune nei commenti e ad altre che ho tralasciato per errore mio nello scorso fact time e quindi niente, hashtag DDG, chiedetemi quello che volete ovviamente non chiedetemi cose o troppo ovvio, impossibili, prive di risposta perché ovviamente dovrò fare un po' di selezione e niente, noi ci becchiamo in un prossimo video